Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo prossimo video Oggi giocheremo a Papa's Pizzeria Andiamo con l'ordine Allora Andiamo a farlo Andiamo a farlo E prendiamo la pizza E ci mettiamo 1 3 4 5 6 7 8 Come dice qua E poi Andiamo a farlo Tagliamo la pizza Adesso dobbiamo Non ho sbagliato Ho sbagliato Non l'ho tagliata Che cosa Sono un stupido Ho sbagliato Eh sì Sono disperati Avevo mangiato così poco Continuiamo Su Forza e coraggio Forza e coraggio Perché sei tu così Facciamo l'ordine Perché mi piace l'ordine Andiamo Cuoli funghi Nella pizza Pizza fatta Mettiamo sei funghetti Come dice nell'ordine 1 2 3 4 5 E 6 Poi Andiamo A cuocere la pizza E comunque Buona vigilia di natale Vi domani è natale Ne cigo E comunque Buona vigilia di natale Auguroni A tutti quanti Quelli che mi seguite Mi sostenete E che guardate I miei Viglia Tutto 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 fish troppo forte grazie grazie ok andiamo all'altro ordine 8 sono mie tempo questo 3 a 4 pezzi ai suoi ordini dove allora voleva pizza pronta voleva 6 olive 1 2 3 4 5 6 poi andiamo a cuocere aspetta continuiamo tutto ok tempo come vuole lei adesso bisogna tagliare 4 fette tagliata ho tagliato male però è sempre la pizza non ti vedo molto contento per i soldi ce l'ha dato quindi no poi lì ci ripetiamo pizza voleva che schifo 6 acciughe della pizza 8 acciughe 3 3 4 5 6 7 8 andiamo a cuocere questa tupi 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 tra poco dovrei venire fuori aspettiamo tiriamo fuori tagliare tagliare alla guanno ciò 1 2 3 4 5 6 7 8 8 giusto vediamo lei il becchietto se le piace ecce tabili giusto due euro ok ci sta andiamo a fare l'altra pizza per l'altro cliente allora pizza dovevamo mettere 8 salamini 2 3 4 5 6 7 8 andiamo infornare vediamo il tempo tra poco arriva come vuole lei pronta in quattro pezzi finisce order finisce ordine ma grazie grazie c'è troppo finita se aggiornate è finito anche questo video ci vediamo al prossimo video ciao